Sono 236 le telecamere collegate alle centrali operative della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri installate nel Comune di Arezzo. Il dato è stato diffuso durante una riunione con confesercenti chiesta dalla stessa associazione di categoria al Comune dopo gli innumerevoli furti e danni a carico degli esercizi commerciali. Un fatto su tutti quello che avvenne qualche settimana fa in Via dei Redi dove durante la notte alcuni giovani che si erano azzuffati per strada avevano anche causato alcuni danni. Il Comune ha confermato di aver già previsto progetti di ampliamento nei quartieri di Saione, Pescaiola e Sandonato e sono arrivate rassicurazioni anche sulla zona della Catona dove le telecamere sono state accese da alcuni giorni. Per Via dei Redi è stata condivisa l'importanza delle telecamere non solo per disincentivare furti e atti vandalici ma anche come strumento utile in caso di reato per risalire al responsabile. È inoltre emersa l'opera l'opportunità di poter collegare alla rete di videosorveglianza le telecamere private installate nelle zone esterne, alle aree commerciali e agli spazi privati ad uso pubblico. Nelle prossime settimane dunque ci sarà una verifica per capire quali esercizi commerciali saranno interessati a fare questo.